Degrado in vicolo 20 settembre nel cuore di Bassano. Ricorderete la segnalazione di un nostro telespettatore residente proprio nella stradina che collega Viale dei Martiri a Via Jacopo da Ponte. Da tempo l'amministrazione comunale, nello specifico l'assessore Andrea Zonta, aveva parlato di una sua sistemazione dando anche tempistiche, purtroppo mai rispettate. A oggi infatti ancora nulla di fatto. Ed è proprio a Zonta che abbiamo chiesto come stia pensando di muoversi. Tra le opere certe in programma dovrebbe esserci la posa del Porfido, in sostituzione dell'asfalto oggi decisamente ammalorato lungo il vicolo. E non solo. Il vicolo 20 settembre è un vicolo che da parecchio tempo se ne sta parlando. In effetti è uno di quei brani di città magari forse un po' più nascosti. Ecco, in questo caso il rifacimento di illuminazione pubblica con il cambio di apparecchi illuminanti e le lanterne sarà sicuramente effettuato. C'è anche da tempo un progetto che riguarda la ripavimentazione con una finitura in Porfido, come merita la via che risale poi da via Jacopo da Ponte. La problematica lì è un po' più complessa perché ci sono di mezzo gli enti terzi, cioè i gestori del gas, dell'acqua e dell'energia elettrica, a cui abbiamo chiesto da tempo di sistemare i loro sottoservizi per evitare che una volta posizionato il Porfido e sistemata la trachita del marciapiede ci troviamo a richiedere scavi suolo pubblico da parte di questi enti. Speriamo si velocizzino in modo tale da poter dare un po' più di dignità anche questo luogo.